Art & Music Festival, arriva all'Aquila, il Pinewood Festival, un evento musicale organizzato dall'associazione di volontariato Coppito nel cuore e nell'anima e da Felinewood, il website musicale indipendente, torna con la sua seconda edizione rilanciando la sfida decisamente più in alto dopo gli ottimi risultati ottenuti nel primo anno. I giorni 29 e 30 giugno, nel verde, nella location del parco di Murata Gigotti a Coppito, alcuni degli artisti più in voga della scena indie elettronica italiana e locale si esibiranno dando vita ad uno scenario che ha come target principale il totale coinvolgimento delle persone che vi prenderanno parte e in cui, sebbene la musica farà da protagonista, ci si potrà perdere tra innumerevoli altre attività e servizi di cui si potrà godere nell'area del festival. Un evento a ingresso gratuito e non a scopo di lucro, ma benefico. Gli incassi, infatti, saranno totalmente devoluti all'associazione di volontariato organizzatrice dell'evento, che lavora in stretta collaborazione con l'ARC, l'associazione italiana per la ricerca contro il cancro. Per due giorni, l'Aquila e l'Inter Abruzzo diventeranno uno dei principali polli a livello nazionale di attrattiva sociale e culturale. Ci saranno anche il bungee jumping, da gru di 70 metri, street food, area narghilè, gonfiabili sportivi, social wall, un torneo di beach volley, biliardino e beer pong. Venerdì i live inizieranno nel tardo pomeriggio con l'esibizione di alcune band locali. Per passare poi allo show dei concerti, un duo di musica elettronica proveniente da Roma. Saranno proprio i concerti ad aprire quello che sarà il main event della serata. Il live dei Comacos, due provenienti da Milano, che sta riscuotendo grande successo. A seguire ci sarà lo show di Bruno Bellissimo, DJ, produttore e polistrumentista. Terminati i live, toccherai i DJ set di Serena di Roma e Mario B di Londra. Sabato 30 con i live si inizierà più presto. Con l'esibizione di Sativa Blue Hole, le lingue sciolte che apriranno in live dei miei migliori complimenti. A seguire l'esibizione di Le Mandorle, duo elettropop bresciano. Saranno loro ad aprire i Pop X, collettivo trentino guidato da Davide Panizza. Successivamente il DJ set di uno dei producer più talentuosi della scena elettronica italiana ed europea, Lorenzo Bitvu, che il 22 giugno pubblicherà anche il suo LP d'esordio. In tarda serata in console, Laulas, noto disc jockey e producer del panorama musicale aquilano.